Bonjour! Allora, volevo fare una breve videorecensione, che poi, breve, bisogna vedere, perché sì, quando inizio a blatterare di libri, poi, cristiana, vabbè, è su un libro bomba! Cioè, l'ho finita stanotte, stanotte ho fatto after a causa di un libro, questi vent'anni mi distruggono, proprio uno sballo, però, oh, mi aveva preso così tanto. Poi, tra l'altro, quando decido, oh, basta, sono stanca, vado a dormire, ho gli occhi che mi si chiudono, leggo il libro, boom, colpo di scena assurdo, di questo tipo, eh? Io, tipo, stavo leggendo, ta-ta-ta, arriva il colpo di scena, io, e sono stata, tipo, così per 30 pagine, perché veramente, insomma, era arrivata a un punto che non mi aspettavo assolutamente. Comunque, inutile parlare, se non dico in che libro si tratta, si tratta di Le bugie degli altri, di Kimberly McRae, mai sentita prima d'ora, e la cosa mi dispiace, perché è veramente super. Allora, questo è il suo secondo romanzo, romanzo di debutto, si chiama La verità di Amelia, se non erro, e anche di quello ho letto recensioni buonissime, quindi dovrò assolutamente recuperarmi anche quello, e questo, quindi, è il suo romanzo, non ne è scritti altri da quel che ho capito, e lo definirei un thriller giallo, saspe, insomma, c'è in questo caso da risolvere. E, ma il bello è che, tipo, quando l'ho ricevuto in regalo da parte del mio amoroso, boh, ho visto il pacchetto, ho detto, questo ho il libro, che bello, questo uomo se che mi capisce, e poi invece apro il pacchetto, e, allora, c'è questa situazione, che io di solito invio messaggi subliminali al mio amoroso per fargli capire cosa voglio come regalo. Subliminalmente, se si può dire, li avevo inviato la mia wishlist di Amazon, con, tipo, tutti i libri che vorrei leggere nella mia vita, e dico, prendi un libro di quello, no? No. Io apro il pacchetto, vedo sto libro, ma chi l'ha mai sentito? Si è rimesso un po' male. Poi, invece, leggendo, ho detto, oh, santo uomo che mi ha regalato questo libro, perché è veramente pazzesso. Allora, a livello di prosa, è molto lineare, è super scorrevole, ma ti passa proprio, cioè, leggevo 50 pagine così. Quello che mi piace tantissimo è la struttura di questo libro. Allora, innanzitutto, parla di questo caso da risolvere, ovvero che trovano il corpo di una neonata col cranio fracassato, tanto per, e ovviamente bisogna scoprire chi è stato. Allora, la nostra protagonista è la signorina Molly. La signorina Molly era un'avvocatessa che lavorava in un'organizzazione che si occupava della tutela dei diritti delle donne in gravidanza. Poi è successo che però lei è rimasta incinta, al nonno mese ha partorito, ma ha partorito una bimba morta, e quindi non si sentiva più tanto di continuare il suo lavoro in quell'organizzazione, e quindi è diventata giornalista. Però lei solitamente si occupava di società e cultura, non di cronaca. Poi però un suo collega non si sa dove era finito, e quindi hanno affidato il caso di cronaca nera, ovvero di questo neonaticidio, che non sapeva neanche esistesse come termine, a lei. Insomma, lei deve scoprire cosa è successo. Allora, ci sono vari capitoli, e ogni capitolo segue le vicende di un personaggio diverso. Allora, i capitoli dedicati a questa signorina Molly sono scritti in prima persona singolare, quindi a lei, in sostanza, la protagonista principale è quella attorno alla quale tutto gira. E poi ce ne sono altri, ci sono altri personaggi, e però i capitoli dedicati a loro sono scritti in terza persona singolare, quindi uno sguardo più esterno, proprio perché è Molly quella che ci interessa poi veramente. Ma il fatto è che questi capitoli che raccontano le varie storie si incastrano in una maniera divina. Praticamente c'è uno sviluppo delle storie di più personaggi. Ma queste storie non è che si sviluppano autonomamente, indipendentemente, che non hanno interazioni con le storie degli altri protagonisti, no? Perché tutte queste vite sono intrecciate. Cioè io, se penso a questo romanzo, penso ad una treccia, no? Tutte queste storie intrecciate che alla fine hanno sempre qualcosa in comune. E ciò che hanno in comune è veramente il punto forte, perché dici miseria non me lo sarei mai aspettata. Io sono rimasta veramente scioccata in certi punti di questo libro, quindi volevo, io adesso chiudo perché so questo telefono quanto mi regge, poi mi si sta addormentando il braccio, perché ovviamente io mica penso ad un appoggio per il cellulare, beh no. E quindi veramente vi lo consiglio tantissimo. Poi mi sa un sacco da lettura estiva, perché l'estate me la figuro come stagione per i thriller, i gialli. Dunque, secondo me d'estate bisogna risolvere dei casi. E quindi vi lo consiglio tantissimo, proprio come lettura sotto l'embronone ci sta. Io vi immagino in spiaggia, spapranzati, con questo libro e che guardate malissimo la gente perché siete scioccati. Quindi sì, non mi ricordo cos'altro volevo dire. È lettura consigliatissima. Mi procurerò sicuramente anche il primo libro di questa scrittrice. Fatemi sapere se l'avete letto, fatemi sapere se lo leggerete e se lo inserirete nella wishlist anche voi. E alla prossima, ciao!